Alle 11.36 di una mattinata immersa nel diluvio se ne sono andati per sempre Alberto e Marta che si sarebbero dovuti sposare l'anno prossimo se ne è andato Andrea, storico Camallo che stava per iniziare il suo turno di lavoro se ne sono andati Juan Carlos scelto a grande cuore di sua moglie Nora e il loro amico di una vita Juan Roberto se ne è andato Alessandro che era affascinato dall'astronomia con sua moglie Giovanna se ne è andata Angela stringendo al petto la sua inseparabile gattina se ne è andato Luigi lasciando sua moglie e i suoi quattro bimbi di tre, cinque, dieci e dodici anni ai quali nonno Giuseppe ha dovuto dire la straziante verità se ne è andato Marius che sognava di diventare come Ronaldo se ne è andato Admir che aveva fatto dell'Italia la sua patria di adozione se ne è andata Elisa la Eli per gli amici ma se ne è andato se ne è andato a la mia vita Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.